Nuovo caso tra le fila del Napoli dopo quello legato a Giovanni Di Lorenzo. Stavolta è il turno di Kvici a Kvara Schelia. Dopo che la trattativa per il rinnovo sembrava ormai in discesa, ieri in serata sono arrivate come un fulmine a ciel sereno le dichiarazioni dell'agente Mamuka Iugeli ad alcuni media georgiani. Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell'Europeo per non disturbare Kvici. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions. Gli ha fatto da eco poco dopo il padre del giocatore, Badrik Varaskelia. Non voglio che resti a Napoli, l'anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere. Ha lavorato con quattro allenatori diversi in due anni, questo mi preoccupa molto. Ma deciderà da solo, anche se per me sarà scomodo. Non ho parlato con Kvici di questo argomento, non lo farò fino alla fine di Euro 2024. Questa mattina è arrivato un duro comunicato da parte del Napoli in risposta a tali dichiarazioni. Il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvarskelia non è sul mercato, non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un giocatore sotto contratto con il Napoli, ma la società Calcio Napoli. Fine della storia. Vedremo come si evolverà la vicenda. Adesso però c'è un'altra crepa da riparare per Conte, Mann e ADL. Grazie a tutti.